Puglia e Medioevo, una storia o molte storie che nel corso degli ultimi 900 anni hanno avuto il tacco d'Italia come crocevia di popoli e mescolanze. Una terra intresa di Oriente era infatti la base logistica dei cavalieri di ritorno dalla Palestina, di cui oggi non poche sono le testimonianze presenti sul territorio. La Puglia è stata sempre una regione protesa verso l'Oriente, nel Medioevo così come è stato nei tempi precedenti, lo è ancora oggi. I templari in Puglia ci sono arrivati dall'Oriente, hanno fatto della Puglia una delle basi di approvvigionamento delle loro sedie in Palestina. Il rapporto tra le crociate e la Puglia è approfondito in due volumi al centro del settimo appuntamento di Bilding a Puglia, la rassegna letteraria curata da Teca del Mediterraneo. Nel primo, Renato Russo, conduce il lettore in un viaggio itinerante lungo la vita di un pugliese alla prima crociata, Boemondo d'Altavilla. Boemondo d'Altavilla è il titolo di Roberto Ilguiscardo, il grande capo di Normanni che ha occupato l'Italia mediterranea di mezzogiorno. E ha lasciato un'orma indelebile diventando uno dei grandi condottieri della prima crociata. Nel secondo, Vitorici affronta la presenza dei templari nella Puglia Medioevale con interessanti ripercussioni sociali ed economiche. Si è avuto una presenza, la prima attestazione 1142-143 a Trani e successivamente si sono diffusi dalla costa verso l'entroterra, dove nella zona della Capitanata, nella zona della Murgia e nel nord barese hanno impiantato una serie di masserie che costituivano l'attività principale per il finanziamento delle attività in Terra Santa. Due focus per tornare con la mente ad una fase, il Medioevo, dove il ruolo della Puglia non fu per nulla marginale perché rappresentò l'ideale luogo di interscambio con l'area balcanica e con la Terra Santa. Un molo naturale piazzato nel mar Mediterraneo, ruolo che, 900 anni dopo le crociate, sarebbe più che mai utile implementare adeguatamente e con maggior coraggio.